Sì, posso anche far piovere. Ecco qua, però ti avverto che se non fai piovere te famo pagare da bastiano. Una cacciotta? No, te rombo lo culo! Oh, è nero il gatto! È nero! Allora attraversate il portaglio questo! Tu hai chiesto! Sono successo troppe disgrazi in questi giochi! Alto mare! Cosa stai facendo? Sto toccando il ferro! È fuoco! Ma mi dite che cosa è accaduto? Una cassetta di sicurezza, sono stata scassinata! Solo una cassetta è stata scassinata! Soltanto una, una bella fortuna! Scusi direttore, per casa è la numero 23? Sì, la 23! Scusi, ma lei lì va a 220 o a 125? Non c'è elettricità! Non c'è, vado! Sì! Ma lei morde! Ma cos'ha lì una tagliola? Ma lei è combinata malissimo, signora! Molto male! Ecco! Ma ha visto appena? Ma che cazzo! Sapesse lui, sta peggio di lei! E ti credo che sta peggio di me! Io con le dita! Ma lui con... Cosa! 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 Vai giù! Uno! Che cazzo è! Banzai! Grazie! Fonto! Pronto, chi parla? Senta, lei ha presente la pioggia? Sì, e allora? E allora basta un gesto dalla mia mano, perché ho dei poteri soprannaturali! E appena faccio il gesto, giù! Il diluvio! Ma tu chi sei? Ah, tu sei Bago Casperle? Io credevo che era Bernacchio per le previsioni! Posso rispondere come mi sento? Sì! Ma va... Urpilovi in luogo pubblico! Altre 18.200 lire! Ma perché tu chi sei, che vuoi tu? Io sono nichilista! No, tu sei cassinista! Papà! Perché me le tratti così? Perché? Andiamo! Perché mi stanno divanti per grosso? E se gli viene un trauma? Ma che me ne frega del trauma, uomo! Fermati, te lo devo dire! Ce l'ho sulla punta dei polmoni! Io ti odio! Hai capito? È un fatto di pelle! In senso epidermico? No, di pelle! Di rottura di pelle! Ma hai rotto le pelle! Ciao Alberico, come stai? Fai bene? No! Mi fa piacere! No, volevo dire, mi dispiace, scusa! Che c'hai? Ma no, niente! È il solito radiamatore che gli fa i dispetti! Ancora? Pronto, qui pover uno, solito ascolto! Ma che parli, francese, passo! Oui, je suis de Monte Carlo, il principato di Monaco! Je suis Albert, le frère, il fratello di Caroline! Passo! Che grande emozione che me dai! Grande emozione, pure un gran coillon! Com'è simpatico lei, signor Secca! Ecco qua! Oddio, casca di sale, portai... Non sarà mica supersticchioso? Eh... No! Per carità! Occhio, malocchio! Prezzemola e finocchio! E come il baptizzo, contro il malocchio! Con il peperoncino e un po' di insaleta, ti protegge la madonna dell'ingoroneta! Due, forza! Uno, due, tre... Devi fare lavorare gli aduttori! Ma la vuoi finirsi o no? Questo esercizio farà molto bene per rotoli pancia! Dear, mia amica, c'è in fonda! Sì, ma c'è in fonda, non ha calcoletti! C'è sempre questo ricche oncello di mezzo che mi tocca agli aduttori! A presto! A presto! A presto! A presto!